Proviamo a fare un gioco, ha a che fare sia con i tracciati che con il tagliatracciato. Innanzitutto cominciamo col creare un quadrato Béziè. A questo quadrato non diamo nessun riempimento, ma gli diamo invece una traccia, in modo che si veda bene. Dopodiché creiamo un altro oggetto, questa volta creiamo un cerchio, a cui invece diamo un riempimento e nessuna traccia. Eccolo qua. Il cerchio lo teniamo all'interno del quadrato. Ora, questa forma, visto che è Béziè, ci dà la possibilità di aggiungere un punto qui. E tenendo premuto col tasto destro, noi possiamo impostare qui il primo vertice, che in questo momento è qua, questo quadratino che è diverso. Noi lo impostiamo qui, e il quadratino si è spostato. A questo punto aggiungiamo un bel tagliatracciati, che si posiziona sotto il nostro tracciato quadrato. Ora, se agiamo sull'inizio e sulla fine, vedete che parte dal vertice che gli abbiamo dato, per cui io gli do 7 e meno 7. Posizionandomi qui, attivo lo stopwatch, dopodiché torno indietro, e lo rimetto pieno. Quello che abbiamo ottenuto è che abbiamo aperto i cancelli. A questo punto stabiliamo anche che la nostra pallina, partendo da una posizione interna, un bel momento può anche decidere di uscire. Qui mi accorgo solo adesso che il punto di ancoraggio non era centrato, ma lo centriamo con strumento punto di ancoraggio Y dalla tastiera. E così quello che abbiamo ottenuto è che la nostra pallina è uscita dal recinto. A questo punto possiamo farle fare un giretto. E alla fine la facciamo rientrare. Per cui, quello che succede è questo. Il cancello si apre, la nostra pallina esce, fa un giretto nel cortile e rientra. A questo punto dobbiamo richiudere il cancello. Quindi che cosa facciamo? Decidiamo in che punto lo vogliamo richiudere. E io direi più o meno qua. Selezioniamo questi keyframe. Command C e li copiamo. Command V e li incolliamo. E a questo punto possiamo andare su assistenza fotogramma chiave, inverti fotogrammi. E così abbiamo ottenuto di richiudere il cancello. A questo punto la nostra animazione si presenta così. Ora possiamo selezionare i keyframe e tenendo premuto Alt possiamo distribuirli lungo tutta la nostra sequenza in maniera tale che duri di più. Possiamo premere F9 per mettere l'Easy in e l'Easy out. E un'altra cosa che possiamo fare sul livello della nostra pallina possiamo attivare, così l'ho attivato su tutte e due, ma qui in realtà non lo volevo, possiamo attivare l'effetto movimento. Grazie. Grazie.